Dince, convince e dopo il pareggio 1-1 con il quale si era aperto il nuovo anno il 2023, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si apre il sabato dedicato alla 17esima giornata di campionato della nostra amata Serie A. Tra poco meno di un'ora in campo la Juventus di Max Allegri all'Allianz Stadium per la prima davanti ai nostri tifosi in questo 2023 contro l'Udinese di Andrea Sottil, match da non sottovalutare per poter poi preparare nel migliore dei modi. Il big match della 18esima allo stadio Diego Armando maladona contro il Napoli di Luciano Spalletti. Ma ragazzi intanto andiamo a parlare di questa prima partita di questo sabato che poi si concluderà all'Upower Stadium con il match tra il Monza di Raffaele Paladino e l'Inter di Simone Inzaghi che arriva dal successo strappato dai tre punti contro il Napoli, contro la capolista, contro gli azzurri di Luciano Spalletti. Un match spettacolare, un match che ha regalato gol, spettacolo, emozioni, errori ma anche polemiche arbitrali con l'arbitro Manganiello, grande protagonista del pomeriggio del Franco. Una vittoria ritrovata dopo il pareggio come detto che ha aperto il nuovo anno, il 2023 per la Viola. Un anno che si è aperto con il pareggio contro il Monza di Raffaele Paladino dal gol di Arthur Cabral al pareggio di un altro verde-oro, Carlos Augusto. Un appunto d'oro per la formazione brianzola per la neopromossa del duo storico Silvio Berlusconi-Adriano Galiani. Un appunto invece che ha regalato più insoddisfazioni in casa a Viola che certezze. Invece questa vittoria strappata nella finale ad una formazione che invece sta vivendo davvero un brutto momento di forma. L'anno sarà concluso nel peggior modo possibile con tre sconfitte nelle ultime quattro gare. L'anno nuovo si è aperto con la sconfitta al Mappei Stadium contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. Anche in quell'occasione il gol dagli 11 metri firmato da Domenico Berardi. Abbiamo detto gol, spettacolo, emozioni, errori e polemiche arbitrali anche a causa del VAR. Grande protagonista del primo pomeriggio allo Stadio Franchi perché è il VAR. A vedere l'accontato con la mano dell'appena entrato Dodò, l'ex Schattar, devia la conclusione di Pinamonti. In al corner non si batterà alla fine quello al corner ma Manganiello va al VAR. Va a rivedere l'episodio e decreta la massima punizione trasformata da Domenico Berardi. 13esimo gol della massima serie alla Fiorentina a meno uno dai 14 siglati ai rossoneri. La vittima preferita da Domenico Berardi che risponde al vantaggio di Riccardo Saponara ad inizio ripresa. Siamo al minuto numero 49, italiano che ha vinto tutte le mosse nel corso della ripresa dal doppio cambio Saponara e il ritorno a pieno regime ormai di Gaetano Castrovilli dopo l'infortunio patito ormai un anno fa per l'ex centrocampista della Cremonese. Il ritorno, la qualità, la certezza, la quantità, la qualità di Gaetano Castrovilli a centrocampo. Quindi, doppio cambio, Fiorentina in vantaggio da un cross a sinistra firmato da Cristiano Berardi al centro dell'area di rigore per Kwame, palla che viene svirgolata da Ferrari in modo davvero maldestro. La palla finisce sulla sinistra all'interno del cuore dell'area nero-verde dove si coordina con il sinistro vincente. Riccardo Saponara che batte consigli per il gol del vantaggio per la viola di Vincenzo Italiano. Vantaggio che hai meritato per quello che poi è stato il primo tempo con l'occasione per Frattesi al diciottesimo sulla palla persa malamente fuori dall'area di rigore da parte di Duncan. Il riflesso di un attento terrazziano ad evitare i guai maggiori. E poi, altra chance per i nero-verdi per la formazione di Alessio Dionisi al ventottesimo con la combinazione tra Frattesi e Berardi. Palla per Pinamonti, per l'ex Inter ed Empoli che non riesce a superare però tu per tu con Terracciano l'estremo difensore viola. Altra chance per il Sassuolo al trentatresimo con il colpo di testa centrale all'interno dell'area di rigore. Questa volta da parte di Rogelio. Quindi è un primo tempo che non regala grandissime occasioni da rete ma è il Sassuolo a fare la partita. Il vantaggio di Saponale. La risposta a lino-verde con il rigore siglato da Domenico Berardi. Altro giro al VAR. Altro controllo al VAR alla minuto numero 62. per il contatto sospetto da parte di Kwame sulla conclusione, sulla girata di prima intenzione di Frattesi. E poi arriviamo alla chance, al 66esimo capitata all'interno dell'area di rigore a Cristian Kwame. Il finale con la grande chance per Nico Gonzalez. Colpo di testa, riflesso di un attento consigli e poi attenzione. Attenzione al minuto numero 88 con la partita che sta per terminare. Il contatto con la mano da parte di Ruan Trensoldi, l'ex gremio, sul tiro non direzionato in porta. Quindi ci saranno sicuramente polemiche da parte di Terzic. Il tiro di Terzic, il contatto con la mano da parte di Ruan Trensoldi per Manganiello. Che viene richiamato al VAR. Non ci sono dubbi. Calcio di rigore che viene trasformato dal rientrante Nico Gonzalez. Che rientrava dopo l'infortunio corso contro l'Inter nel match spettacolare al Franchi lo scorso 22 ottobre. Ragazzi, rientra e mette a segno. Trasforma il calcio di rigore che regala tre punti d'oro alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Quinta sconfitta nelle ultime sei gare. Quinta sconfitta consecutiva. Lontano il MAPEI Stadium per il Sassuolo. Che adesso rischia tantissimo. Viene risucchiato nella zona retrocessione, nella zona rossa della classifica. E rischia anche la panchina Alessio Dionisi. Grazie per attenzione. Lasciate tantissimi like al video. Iscrivetevi come sempre al canale. E seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.